L'Unione Europea tutelerà i propri interessi economici nei rapporti con la Cina. Lo ha chiarito durante un viaggio nel paese asiatico il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, evidenziando i crescenti punti di attrito fra Bruxelles e Pechino, in una relazione che appare oggi molto sbilanciata, soprattutto se si guarda al deficit commerciale in favore dei cinesi. All'inizio del mese la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen aveva annunciato l'apertura di un'indagine sui sussidi statali alla produzione in Cina di auto elettriche destinate al mercato europeo. Il vice primo ministro cinese Eli Feng non ha nascosto la sua preoccupazione in proposito. Il deficit ha aumentato fino quasi a toccare 400 miliardi di euro, resta una delle maggiori preoccupazioni dell'Unione, tanto quanto l'irritazione per la posizione attendista sulla guerra in Ucraina di Pechino, che non ha mai condannato apertamente l'invasione russa. Secondo gli esperti, i timori per la sicurezza economica a lungo termine cresceranno a Bruxelles con il procedere della transizione ecologica. Visti i presupposti, è comprensibile. L'avvertimento è espresso da Dombrovskis. Cina e Unione Europea sono a un bivio nel loro rapporto e potrebbero allontanarsi l'una dall'altra.